per quest'opera di pontormo ci si divide ancora sulla persona rappresentata secondo alcuni l'ala bardiere potrebbe essere francesco guardi giovanissimo soldato della repubblica fiorentina durante l'assedio di firenze altri invece ritengono sia il giovane cosimo primo dei medici vittorioso dopo la battaglia di montemurlo nel 1537 al di là di questo abbiamo di fronte a noi un giovane ragazzo rappresentato con un'inquadratura stretta fino al bacino sullo sfondo di un bastione in pietra appena accennato nel dipinto il giovane ala bardiere è intento a presidiare proprio il bastione difensivo dipinto sullo sfondo si appoggia all'asta dell'alabarda con una presa salda della mano destra mentre la sinistra è sull'anca conferendo fierezza a tutta la posa come in altre opere di pontormo la luce intensa che investe il primo piano del dipinto contrasta fortemente con lo sfondo scuro e mette in risalto il colore degli abiti del giovane il beige della giacca il bianco della camicia il rosso acceso dei pantaloni del berretto begliamento è elegantissimo a partire dai calzoni rossi la cintola a cui appesa la spada evidenzia un girovita sottilissimo dal quale la casacca rigonfia completa nel quadro chic una collana di maglie d'oro al collo una camicia bianca con polsini a sbuffo e un berretto rosso su cui è appuntato uno spillone una piuma e una gemma con ercole e anteo grande perizia è stata dedicata alla rappresentazione di tutti i materiali dal metallo brunito dell'elsa della spada al cuoio della cintola al legno venato dell'asta dell'alabarda alla setosa consistenza delle pieghe della giacca alla manica memore della lezione raffaellesca un disegno preparatorio della versione dipinta si trova alla galleria degli uffizi di firenze video iscriviti al canale lascia like e condividilo con i tuoi amici ti invito anche a visitare il mio negozio un saluto e al prossimo video di arte esplorando